No stay back then coffee noticia danke di abo che ti stai conoscito me inti fordì metà di 7 te co 8 ho trovato il buon programma inizialmente coffee noticia por certo televisione hai operato una nota di un programma nuovo Rima qual sto rima sul dia di caso ha presentato il programma Awe per trovare tì más presentato ma so claro tammè durante di cimang alcun minuto ora volante ma in da trempan passini bo ti un tiki aero bienti positivo mentalmente cerca nos aqui na CBI questo dia ora qui prima coffee noticia prima che alabanza conoscito il dia bo ti tambe un pastor di casa di sr. Giuliat che donano un tiki di ebrisa positiva con nos mente con nos polante e come se funziona con esaki banzi di conversar con sr. Roni Cornelis non so per ora te diba e punto di non so per ora che non so per ora che non so per ora botanbe sugetto no controllo e se a passa e mi dingo bisabu non so vai un da derrotta cada un cafe non so per ora non so per ora non higiene copa non so per ora la scuola che si arriva e cominciamo con la limpieza, perché si sono col attività speciale, anche perchè non è che la late, non è il punto principale il momento è rimasto limpo, e visto che non lo compro a loro stoffe, perché non ho fatto il momento, senza limpe, con questa vista di guardate ora con le istanze di gobierno che mi controlla che ho sancionato per ottenere una medida. De fatto ho visto che i commercianti sono di gialluna per gialluna. Non c'è un dia libero, non c'è un dia con questa vista, che ha avuto i nostri servizi per non fare la limpiezza. Quindi, con questa vista, l'unica è in teoria, generazione a tutti i giorni, quindi si intende che è parte higienica. Quindi, se non si lamentano, in maniera per vedere il commerciante, tutti, per tutti i commercianti, tutti gli altri, che si votano, sono subito al controllo. E' stato detto anche, nel caso dei commercianti in Asiatico, i nostri giovani, che non sono popolarmente chinesi, secondo il inizio di multidisciplinare qui, avete visto che il massimo della battaglia è successo in un'enorme? Perché non è dominante, 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 che non è dominante. Ma non è tornato un fenomeno, ma non è tornato un altro, non è dominante, ma non è sorpresa, non è agradabile, non sovieno da le cose, non sovieno di più, non sovieno di altre. E poi, sapevo avere l'ambiente, ma non è tornato un altro, non è tornato l'ambiente, mi hai visto che, non è tornato un altro, perché non è arrivato l'anno di di Dezembro, la maggior parte dell'imprenza, la pubblicità della imprenza, è un pollo, è un pollo, in totalità, perché tutti i nostri bambini non sono stati. Quindi ho fatto che tu rendi sempre controllo il bambino, quindi almeno mi ha detto che è il mio costo, e il mio costo è il mio costo. E se non si è realizzato, se non è complicato il costo, io voglio. E questo è un grande esempio. Se è semplice, un esempio, se è semplice, se è semplice, non è necessario mettere un paese e un paese di organizzare e organizzare per tutto quello che fa. Mi guarda qui nel Comissario del Asiatico, che cosa ti piace più dirigire il ristorante qui? Non è un costumbre che non ti preoccupi, perché non ti preoccupi nel momento che il prodotto va caliente, ma non ti preoccupi. Ti immaginavo che c'è un commerciante che prende il rabo, 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 e il rabo si può essere perduta. Se nel caso, il rabo si è il rabo, non ti preoccupi sul tuo lavoro, non ti preoccupi. Ma il problema non ti preoccupi, perché non ci sono problemi di riscaldi, ma non ti preoccupi, ma non si può essere. Cosa si può essere? quindi mori e se non si riuscita e l'inizio non capisce non sapevamo a fare il cielo ma non è solo la cosa che si vive ma non si riuscita ma non è così non c'è un punto non c'è un bambino non c'è un bambino non c'è un bambino e non c'è un bambino con la farina facciamo acqua di rembac, per gli arvomani. No rotto non c'o più ne c'è tutto il rispondimento. Non c'è più rispondimento. Io ho fatto un sacco di ronda, un altro che mi, ma in tutto caso sono una corsozza, ho fatto un sacco di ronda. E poi ho detto che mi ha detto che non mi ha detto che è un motivo di comandare le cose. E poi mi ha detto che ci sono un'eccidazione, perché io ho detto che mi ha detto che è caro. E poi mi ha detto che mi ha detto che è caro, ma non c'è cosa che non si riuscire. Questo risultato è che non si stanno in un pietro che in due resta nel Cayacoco Valentin che non si stanno con la carpa da Vries e allora mi dà solo, non, che ci sono ancora qui, non si stanno finendo. Non si stanno finendo, non si stanno finendo. Ma non si stanno finendo, non si stanno finendo. E' un pietro che non si stanno finendo, non si stanno finendo, non si stanno finendo. chi è così legato? dove c'è il nostro paese? dove c'è il numero? dove c'è il nostro paese? dove c'è il nostro paese? dove c'è un paese prodotto dove c'è una serie di omissioni con la nostra vita in questo caso, in maniera e in persona non è permita, ma non è la nostra la economia non è la nostra la economia dove c'è un paese l'argo nonostante nonostante se ci si incontra queste parts se ci si incontra ovviamente nonostante se ci incontra le nostre strumenti con noi ci sono... nonostante nonostante ma anche come ci si incontrava il nostro paese? ma anche ma invece che arriva, ma resta di un altro numero. Come ci sono? No ci sono limitazioni. Il nostro lavoro è un condimento per il lavoro, il nostro lavoro è un lo responsabile, ma non lo lo permette. In una camera scrive, il nostro numero di un numero, non lo lo permette anche. Se siamo insieme a questo lavoro, possiamo aiutare il quinto parte, che i nostri termini migliori, di CUR. In questo caso, ha un certificato di higiene, o che altro, possiamo prendere la comida che non abbiamo consumito. Quindi, abbiamo almeno la garantia di mitigare il rischio. Per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore, per il cuore. Che vuoi dire? Contattare la comunicazione con i cominciani, per il cuore. Allora, se non lo so, in questo caso, è un'occhiamento di comunicazione per andare a fare il cuore. Di maniera, non lo so, se non lo so, in questo caso, non lo so, ci sono informazioni che ci sono passati nel cuore. Allora, se ci sono informazioni, di una sessione di informazioni di un'induzione, una holiday in Caminia Turabini. Ora che noi stiamo in processo con l'associazione chinesa per noi organizzare un giorno, un giorno di massa di informazioni perчитare e conoscenze che non vissi a imporare, cosa vissi a imporare, cosa vissi a imporare, in alcun circunstazio, non vissi a imporare. In alcun momento si, sta conjuntamente, per semelare a nostra comunità. ora mi punto di parte di comunicazione qui e poi non penso che sia una parte di donamento di permittura ma ti immaginavo che tutti i giorni non stanno in una maniera in un'altra area ma non stanno in una direzione, ma non stanno in un controllo tranquillamente ora si arriva a un negocio con 4-5 minuti a guardare per il permittura come stai a cercare la persona qui? non stai a cercare, non stai a cercare, non stai a cercare l'economia non stai a cercare l'economia non stai a cercare la realità ma stai un'ar KP che permette, il processo per trovare il permittura di dar la masca normale e nel 4-6 ora si arriva la petizione una petizione non stai a cercare, non stai a cercare, non stai a cercare per esempio non stai a cercare la cosa che stai a cercare di un permittura Al final, è permesso di operare in a fuori di questo permesso, per il simbolo motivo che non so che si trova economia. Però se non si arriva ad un luogo che ha, maniera che dice, 5 luni e 3, e non ha fatto un peticione, se ci si trova. Finalmente, signor Cornelis, non stiamo consciente che ci sono consapevoli con la comunità, ma il nostro com'è sarà più debile, ma è più piccata, più abba, e più comunità. Secondo la mia opinione, secondo il rame di comunicazione, è la falta di conscientizzazione di noi, non si può essere consapevoli con la mia cosa. Non si può essere consapevoli con la mia cosa, non si può essere consapevoli con la mia cosa, non si può essere un po' di caduca, non si può essere un nome di Ronnie Cornelis. Quindi, non si può essere consapevoli con la mia cosa che ci sono consapevoli, e non c'è qualcosa che mi sono consapevole di più di quella di scuola, per esempio, di tutta l'idea qui? Sì, buonasera. Per esempio, mi sono scrivendo le Hopi e le campanze che noi siamo arrivati a 80 anni, e le campanze è successo ora che noi siamo arrivati a scuola. Preciso. Mi tengo pensato che noi stiamo facendo una scuola, ma noi stiamo in una forma integrale. Quindi noi stiamo a scuola, ma noi stiamo a stuera, portando un'idea qui, ma noi stiamo congiuntamente per fare la concentrazione di troppo e ne voleviamo se cambiare. Non, non, non è scuola avanza, se non ci sono scuola. Spero fanno una scuola conoscenza, ma sono un'acqua? Non, non, mi sono convincita a dire che ora c'è un buon fondaggio, ora è diventato grande, non lo vediamo alla cosa che non. Rapparò, non? E poi faccio altre cose, ma cosa che gli stiamo deep down, e quindi la sua zona è in effetti. Sì, quindi per sperare che sia un plato che ci sono ancora in grado per la scuola? Sì, sì, sì. Quindi si è un'idea. Controli controlli per il giorno e l'anno qui, non c'è il controllo? Sì, sì, controlli che non c'è il stop, controlli che ci sono per la scuola. Il controllo è solo per garantire che ci sono in ordine. quindi mi è ampia, con un buon conosci, un familiare con una via in Holanda e mi ha detto che mi mando farlo non mi mando farlo, mi mando farlo, mi mando farlo e farlo, mi mando farlo, mi mando farlo mi mando farlo, non so colgo i familiari che mi accorsi, mi hanno visto a me in casa, non so sali mi hanno detto che mi mando farlo e dico, chico, ti controla tu? che è il punto di controllo che è sumamente importante per tutto quello che vuoi fare e se vuoi fare un paese che ti sta arruinando, per quanto vuoi essere in controllo, per mantenere la mia regla ok, signor Connelli sono qui anche per visitare la nostra Cofi Notizia, per aver guardato che non ci voglio seguire, ma non ci voglio conoscere un po' conoscenza con i nostri papi e i nostri aiuti a consentire e i fondi e i nostri spera durante il giorno che ti viene chico di informazione durante il controllo e sicur, mi ti desidero il vediente non ci sia il prossimo controllo che ti signor Connelli, non ci voglio che non ci voglio fare e non ci voglio fare un paese tranquillo con i nostri vivi un placer e ojalà la tua parola è un po' di santo e sicuramente. La prossima è la finale di Cofi Notizia è la luna del 2 di ottobre e la prossima è la Cofi Notizia con l'ex ministra, la Sra. Maurina Esprit con l'ex ministra di insegnanza di cultura e il deporte e noi ci voglio fare un progetto sumamente importante per lanciare all'anà con Pablo Duarte caminare all'interno del mercato del mercato laborale del caso dell'Ageo con Pablo Duarte e ma so'claro è notizia da VT che abbiamo buforato che ci sono anche noi edizioni di notizia e anche il giorno di notizia e poi ci vediamo in questo video ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.